Ciao, sono Flavia, sono originaria da Transilvania, Romania, sono in Italia da 15 anni. Ho visto i volantini del corso di assistente familiare e ho deciso di farlo, perché avendo già esperienze lavorative nell'ambito come assistente familiare, ma non avevo un attestato, quindi ho deciso di fare questo corso che aveva compreso 160 ore. Era un corso molto impegnativo, però abbiamo avuto dei docenti bravi, pazienti, che ci hanno trasferito tanta informazione. Ho migliorato le mie abilità per svolgere il mio lavoro meglio, quindi alla fine del corso mi sono ritrovata con una bella esperienza in più, facendo anche delle esperienze pratiche per l'assistito. e io auguro a tutte quelle che non hanno fatto una qualifica nell'ambito di farlo, perché è un bel esempio, un bel lavoro e combattiamo il lavoro nero. Grazie mille! Grazie a tutti.